Dieci giorni fa un uomo senza fissa dimora di 59 anni è morto ad Andria, probabilmente a causa del freddo. Da tempo trascorreva le notti cercando riparo a ridosso delle mura dell'ospedale Bonomo. Sono quasi 50.000 in Italia le persone senza tetto secondo l'Istat. Al sud una ogni mille, persone che spesso facciamo finta di non vedere ma che hanno realmente bisogno di aiuto. Su questo fronte c'è in prima linea un'associazione, Avvocato di Strada Onlus. Stamattina proviamo a capire di cosa si occupa con due volontarie dell'associazione. L'Avvocato Anna Maria Cataldi che è il referente per Bari, buongiorno. E l'Avvocato Lucia Fazzina, buongiorno. Da quanto tempo esiste l'associazione e di cosa si occupa in particolare? Allora, l'associazione Avvocato di Strada è un'associazione nazionale Onlus, a sede a Bologna. È nata nel 2000 come realizzazione di un progetto creato da alcuni avvocati di Bologna. che avevano intenzione e quindi hanno inseguito questo obiettivo, alla fine l'hanno realizzato, di tutelare in maniera più strutturata senza fissa dimora. In Puglia in quante città è operativa? Ora, dunque, sul tutto il territorio nazionale siamo 26. In Puglia siamo su quattro città, siamo Bari, Lecce, Foggia, Taranto. Ecco, questa associazione innanzitutto vorrei sottolineare il tipo di utenza. Noi parliamo appunto di senza fissa dimora, senza tetto. In realtà, chi sono queste persone? Certo, non sono i clochard nel termine più romantico che noi possiamo intendere. È un'accezione un po' più pesante quella di questi senza fissa dimora. Quindi parliamo di migranti, parliamo di Rom, però parliamo anche di tanti connazionali, i cosiddetti nuovi poveri, che vuoi a causa di una separazione, vuoi a causa della perdita, di un lavoro anche abbastanza repentinamente, purtroppo in questo periodo di crisi questi casi aumentano più frequentemente, si ritrovano per strada, si ritrovano a perdere gli affetti, i punti di riferimento, appunto la casa, non facendo più parte di una rete di protezione sociale, sono sbandati e chiaramente molto spesso si rivolgono a noi. L'Avvocato Fasida, in che modo si rivolgono a voi o in che modo voi provate a raggiungerli e quali sono i problemi principali che vi pongono? Allora, si rivolgono a noi per il tramite di una rete di associazioni, infatti l'obiettivo primario è potenziare appunto la rete di associazioni. Sul punto mi preme sottolineare che essendo i nuovi poveri anche carichi di una sorta di dignità, spesso la povertà viene sentita come un senso di colpa, un fallimento della vita. E quindi si rivolgono a noi, ma anche per noi volontari è difficile spesso carpire i tasselli del loro vissuto, motivo per il quale, ancora prima di offrire una consulenza legale, offriamo l'ascolto. L'ascolto proprio con la maiuscola, quindi vero, effettivo ed empatico. Quindi questo movimento di emozioni che ci consente di entrare in contatto con questi poveri e quindi di poter ristaurare con loro dapprima una comunicazione e successivamente capire qual è il bisogno di cui hanno, cioè la necessità di cui hanno bisogno. E quali sono quelle più frequenti che si presentano? Allora, primo tra tutte il problema della residenza, perché è chiaro, essendo senza fissa dimora, gente che perde il lavoro, perde la dimora, perde la residenza, quindi viene cancellata dalle liste anagrafiche e quindi il problema è che poi, essendo privati del diritto di residenza, perdono i diritti proprio per strada, perché perdono il diritto all'assistenza sanitaria nazionale, eccezione fatta per il pronto soccorso. Quindi lei può immaginare anche un povero che ha bisogno di cure per quotidiane giornaliere, per il diabete o l'epatite, ad esempio, si trova senza averlo questo diritto. O ancora ci sono persone senza fissa dimora che avrebbero diritto ad una pensione di invalidità civile. È chiaro, senza residenza non potrebbero percepirla. Quindi essenzialmente noi partiamo dando priorità a questo diritto, che è quello della residenza, che è corollario base poi di tutti gli altri diritti. Ecco, l'attività che voi fate è volontaria, ma in che modo si sostiene l'associazione? Allora, l'associazione si sostiene con le donazioni del 5 per 1000, che appunto sono versate alla sede di Bologna. La nostra associazione, come lei ben diceva, è totalmente gratuita. Noi prestiamo una consulenza legale che è completamente a titolo meramente gratuito. Mi preme sottolinearlo perché anche nei casi in cui ci sia la possibilità di poter, senza fissa dimora, che ottiene la dimora, ottiene la residenza, e quindi è la possibilità di poter usufruire per legge, la legge che lo consente, del gratuito patrocinio, noi come volontari demandiamo poi al Consiglio dell'Ordine il povero che potrà scegliere l'avvocato che è iscritto nelle liste del gratuito patrocinio. Ma oltre che un sostegno economico, di che cosa ha bisogno l'associazione da parte delle persone che possono in qualche modo aiutarla? Beh, l'associazione ha bisogno sicuramente, essendo un'associazione di volontariato, dell'aiuto un po' di tutti. Ovviamente all'interno dello sportello sono presenti avvocati per l'assistenza strettamente legale, quindi in senso tecnico. In più, noi abbiamo ogni sede di sportello dotata di un segretario che si occupa del riordino delle pratiche, dell'organizzazione dell'ufficio in generale, dei contatti. Ma a livello di competenze specifiche di cosa c'è bisogno? C'è bisogno, per esempio, nella fattispecie nel nostro sportello ci servirebbero delle interpreti, degli interpreti che sicuramente potrebbero essere, potrebbero darci una mano, essere un supporto, psicologi anche, perché noi ovviamente facciamo rete con tante altre associazioni e anche con i servizi sociali, però gli psicologi, gli assistenti sociali se si volessero affacciare e volessero darci una mano sarebbero benvenuti perché ci sono problematiche che richiedono anche uno studio un po' più particolare anche sotto quel punto di vista. Pochi giorni fa è stato presentato un progetto che si chiama Diritti al Sud che punta proprio ad allargare questa attività. Certo. In che modo? Allora, il progetto Diritti al Sud finanziato dalla Fondazione con il Sud ci permetterà come sportello di potenziarci. In che senso? Il primo obiettivo tra tutti è quello di organizzare dei corsi di formazione. Il primo partirà proprio a marzo, si tratta di un corso di formazione della durata di 20 ore che sarà tenuto da una psicologa coordinatrice dell'Associazione Psicologa di Strada, la dottoressa Laura Baccaro che per l'appunto formerà e quindi è rivolto ad utenti, volontari, aspiranti, volontari e quindi questa formazione è proprio tecnica. In secondo luogo, sempre per il tramite di questo progetto, riusciremo a sensibilizzare e quindi entrare nelle scuole e potenziare questo far conoscere anche agli alunni delle scuole le povertà. Quindi come Avvocato di Strada Onlus a livello territoriale, nazionale, territoriale poi si muove e conosce il povero. Come si avvicina adesso e appunto quali sono le forme di tutela e di sostegno. Allora siamo in chiusura, io ringrazio l'Avvocato Fazzini e l'Avvocato Cataldi dell'Associazione Avvocato di Strada Onlus di Bari.